Forse perché un forse coscerino sta guardando se è scontrato contro quello e è attaccato. Andiamo. La passa? Di mano. Non è fatto. C sharp, F sharp, B, I, D sharp, C sharp. Quanti farsi da frappe. C sharp, F sharp, B, I, D sharp, C sharp. Pifti da frappe. G sharp, G sharp, C sharp, F sharp, B, D sharp, D sharp. Quanti farsi da frappe. A sharp, D sharp, G sharp, C sharp, F, A sharp. Quanti farsi da frappe. B, A, D, G, B, I. Tertinto fret. F, F, B flat, D sharp, G sharp, C, F. Quanti farsi da frappe. Quanti farsi da frappe. D, G, C, F, A, D. Quanti farsi da frappe. F, B, 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 B